Philip Potter, del Baltimore Sun. All'aeroporto un'accoglienza corretta, dosata sui minimi essenziali del cerimoniale, priva di qualsiasi spunto di calore popolare. E poi a Pechino il primo grosso sviluppo a sorpresa, l'incontro anticipato tra Nixon e Mao Tse Tung. E poi ancora al banchetto di Stato offerto da Chuen Lai, uno scambio di brindisi che possono significare tutto o nulla, a seconda di quanto accadrà nelle discussioni dei prossimi giorni. A noi, proseguono i bombardamenti dei B-52 americani sul nord Vietnam. Saigon, i Viet Cong attaccano una quarantina di basi americane nel Vietnam del Sud. Taipei, Chiang Kai-shek ha annunziato il suo ritiro a vita privata. Il governo formosano presenta formale nota diplomatica di protesta all'ambasciata americana per la visita di Nixon in Cina. Nel documento si afferma che Formosa non riconoscerà alcun accordo che Nixon potrà raggiungere con Pechino. Nuova Delhi. Appena tre ore dopo l'arrivo del presidente americano a Pechino, Indira Gandhi dichiara. Se l'incontro tra i dirigenti americani e cinesi ha per scopo lo sviluppo dell'amicizia tra i due popoli, l'India non può che esprimere la propria soddisfazione per questo incontro. Tuttavia alcuni esprimono il timore che questi colloqui abbiano per obiettivo la formazione di un asse Pechino-Washington. In questo caso, benché l'India non sia una grande potenza, essa si opporrà a qualsiasi decisione imposta ai paesi asiatici.